ben ritrovati ragazzi sul canale di Galloz dopo un sacco di tempo purtroppo in questi giorni non sono riuscito a dare tanta continuità alla serie torniamo su CK3 con l'episodio 10 della nostra partita con l'Italia della dinastia d'Ambrogio e il re Alberico che ormai è 61 anni ma io tifo per un 70 anni perché insomma ha ottime statistiche e secondo me è in grado di arrivare fino a quella veneranda età allora c'eravamo lasciati con un bel po' di cose e ho visto i vostri commenti dei giorni scorsi li ho letti tutti quindi adesso faccio un piccolo recap perché volevo parlare di due o tre cose e poi direi che iniziamo a giocare allora la prima cosa riguarda l'ordine religioso che abbiamo reclutato quindi l'ordine dei cavalieri templari allora iniziamo dicendo che purtroppo non sapevo cosa stavo facendo anche perché appunto diciamo che questo è l'ex explore essendo che il gioco è nuovo e quando ho creato l'ordine religioso io ho segnato purtroppo la holding sbagliata la città sbagliata, la baronia sbagliata allora mi sono letto un po' la wiki e ho fatto un po' di test quindi faccio un piccolo recap rapidissimo io in tante serie faccio una specie di serie con tutorial in mezzo so che magari a tanti non piace o a tanti invece piace tantissimo questa cosa però a più a parte di me cioè non riesco a non dirvelo comunque allora come funziona loro gli ordini religiosi se voi siete o un re o un impero gli potete assegnare una città se invece siete un barone o un duca non penso gli possiate assegnare una città ma rimangono semplicemente disponibili qui così diciamo come vagabondi o se gli assegnate la città poi vengono anche presi dal re che avete in quel momento quindi è un po' una situazione speciale mentre noi che siamo un re diciamo è molto più semplice le città che potete assegnare o meglio le baronie che potete assegnare sono solo di due tipi città o baronie e castello come questa perché questa qua invece è il castello principale quindi non è la stessa cosa questa è una baronie e castello tra l'altro mi sono accorto che c'ha le mura diverse questa qua di Girova vabbè interessante perché appunto ci sono le mura di Genova che è una struttura sua ma non pensavo che anche a livello grafico avessero questa differenza bando alle ciance vediamo Roma se c'ha le mura aureliane sì anche queste sono diverse a questo punto ci guardiamo anche queste qui sì pure le sue sono speciali ma mi sembra che nella loro specialità sono tutte uguali nell'essere speciali comunque allora gli ordini religiosi dove eravamo rimasti possono avere solo due tipi di città i castelli o le città di baronie i castelli o le città purtroppo io ovviamente ho scelto una città ed è la scelta sbagliata ho scelto Monza semplicemente perché essendo nella baronia di Milano nella contea di Milano scusate la confusione sarebbe sempre rimasta a noi cosa che in realtà poi leggendo la wiki ho scoperto che non cambiava molto però facciamo finta di sì cioè io pensavo di sì e quindi l'ho data a Monza allora innanzitutto cosa succede quando date una baronia a un ordine religioso quella baronia lì diventa vostra ma non rientra nel vostro count di dominio massimo e in quel momento la affittate diciamo così la date in concessione all'ordine religioso che in quel momento si comporta come se fosse il proprietario del posto anche se il proprietario siamo noi noi l'avevamo concessa l'ordine religioso però è governato dal gran maestro tal Giulio che in questo momento dal punto di vista amministrativo è come se fosse un nobile quindi lui governa le baronie e può averle solo di due tipi quindi non le chiese per intenderci come se fosse un nobile questo cosa vuol dire? vuol dire che avendogli dato una città non può avere i guadagni che hanno i sindaci dalle città per esempio se andiamo a Bellinzona Bellinzona c'è il sindaco qua il sindaco Major cioè non è il nome del sindaco Major Major è come si dice sindaco in inglese o a Luni che è una città capoluogo quindi diciamo la capitale della contea quindi nella contea di Luni la baronia capitale non è un castello come nella maggior parte delle altre ma è una una città quindi c'è il Lord Major perché è un livello un po' più alto come se fosse il livello di conte che però è un è un sindaco e guadagna questa quantità di soldi non sono mica pochi invece per esempio un'altra cosa qui lui il il conte Geoffrey di Orbetello è anche il reggente non voglio usare la parola sindaco è anche il reggente di Pisa Pisa è un'altra città uguale a Luni però lui non essendo un Major quindi un sindaco non ha nessuna entrata da queste zone qui questo cosa significa? tra l'altro tutto quello che ho appena detto si vede benissimo da questa mappa vedete che questa qua è una repubblica alle strisce blu perché io sono il capo però il governo cioè diciamo un governo di un tipo sottomesso a un governo di un altro tipo così si capisce meglio il governo locale è una repubblica sottomessa al governo nostro che invece è feudale quindi c'è questa cosa qua c'è anche questa cosa qua quindi Monza per tagliarla breve non dà assolutamente guadagni al nostro gran maestro Giulio qual è il problema con ciò? è che lui non aumenta i suoi soldi mentre se fosse stato a Monaco che è l'unica baronia tra parentesi castello che possediamo che però sarebbe stata sufficiente per raggiungere tale scopo avrebbe guadagnato 0,38 infatti se andiamo a vedere i suoi soldi di questo tizio guadagna 0,3 al mese mentre se andiamo a vedere i soldi del gran maestro Giulio non guadagna soldi al mese allora di per sé ecco la parte negativa di tutto ciò è che lui non guadagnando soldi non può costruire queste cose io non posso non ho controllo qua mentre incredibilmente avrei controllo su qua perché è vero che lui è suo però io posso imporgli di costruire alcune cose mentre su una città dove io sono il il country leader comunque non mi dà la possibilità di fare nulla perché la gestisce completamente lui quindi a Monza è pieno di templare in questo momento e vabbè quindi diciamo che nostro padre praticamente il fondatore della gilda degli assassini potrebbe non andare tanto d'accordo con i templari eccetera eccetera allora a noi cosa cambia di fatto che essendo Monza una città nella nostra contea abbiamo perso tutte le tasse dirette che ci arrivavano che quindi era circa 0-4 se andiamo a vedere qua Vassalli Repubbliche è una città di Bellinzona che è un po' meno costruita di Monza ci dà 0-3 io ho ricaricato un save precedente per controllare come ho detto che ho fatto qualche test e ci dava 0-4 e mi pare 18 mini quindi di fatto ci avevo perso anche un po' economicamente non tantissimo però ecco diciamo che tornando indietro l'avrei messa a Monaco allora ci sono poi 3 4 interazioni principali che si possono fare con gli ordini religiosi oggi ne useremo già qualcuna sempre se riuscirò a toglierla a posa in tempo adesso cercherò di farlo allora la prima è questa semplicemente quando siamo in guerra possiamo reclutarli e saranno una specie di esercito in più che si può utilizzare per fare cose e in quel momento saranno completamente gratis per noi perché gli abbiamo dato una città se non gli date una città quindi se siete un duca o un conte o gliela revocate cosa che ora vi faccio vedere come si fa ma non facciamo però vi faccio vedere come si può fare dovete in quel momento pagargli un po' di pietà per reclutarli durante la battaglia le altre 2 3 decisioni sono queste una che è diversa le altre 2 invece sono molto simili questa è chiedere dei soldi in prestito e sostanzialmente non possiamo farlo più per 15 anni dobbiamo restituirli e finché non glieli restituiamo potrebbero farci delle domande a cui dovremmo dare delle risposte non so che tipo di domande siano ma immagino che se noi siamo loro creditori no noi siamo loro debitori insomma dobbiamo potrebbero farci domande particolari e non si può chiedere più di una volta in prestito l'altra cosa invece è rimuovergli la licenza su quella città la concessione c'è attraverso due modi questo che praticamente li rimette nel pool qui cioè ve le ritrovate qua ma non più assunti gratis li trovate senza sede tra l'altro il fatto che abbiano una sede li rende più forti cioè hanno delle cose in più più truppe cioè in realtà più truppe no perché sono nella holding sbagliata quindi non gli danno truppe per niente mentre queste cose sono quelle che pigliamo noi vedete che lui non prende nulla perché è il tipo sbagliato di umino sia dei soldi che dei levis quindi se cliccate questa decisione qua fate arrabbiare il papa fate arrabbiare lui e la baronia se ne va da monza però rimane diciamo in quelle disponibili e dopo un totempo se ne va quindi di fatto se ne va via pure l'altra possibilità è quella di schiacciare questo tasto e li mandate via costa molto di meno non si arrabbia il papa se arrabbia solo lui e se arrabbia addirittura di meno però li distruggete per sempre cioè o meglio gli sciogliete l'ordine allora a me spiace sciogliere l'ordine dei templari perché tra l'altro non so se sono fixati ma c'è uscito davvero fortissimo non questo questo cioè con due unità 300 cavalieri dell'ordine che in realtà è semplicemente fanteria pesante che comunque è molto forte è anche molto costoso ma in questo momento sarebbe gratis quindi è molto molto forte però d'altra parte vorrei anche tenere mozza allora di fatto ora mi comporterò in questa maniera facendo un po' di roleplay lui è una persona molto fedele con una pietà molto molto alta quindi non andrà a sciogliere l'ordine religioso anche perché lo utilizzerà e adesso lo utilizzeremo subito appena toglie la pausa però se dovesse capitare un figlio che sta molto più attento di lui alla gestione del territorio potrebbe capitare che lo sciogliamo e ricreiamo un ordine religioso qui così potrebbe essere stupido o meno perché ovviamente costa punti pietà e con l'uno abbiamo a bizzeffe con l'altro figlio no però diciamo che possiamo tranquillamente vivere senza i soldi di Monza mi sta solo un po' antipatico il fatto che non abbiamo la possibilità di costruire questa città fino al massimo mentre Genova comunque non è una contea su cui punterò per sempre quindi andarle a mettere qua non è che ci creerà troppi danni poi l'altra cosa di cui volevo parlarvi è una cosa in cui avete iniziato a discutere nei commenti però secondo me non avevate chiara l'idea infatti vi ho detto che ve l'avrei spiegata rapidamente adesso spero perché siamo già a 12 minuti di video nel video nel video futuro che è questo che riguarda le risorse in gioco allora sono 5 non sto a parlarvi di soldi e levis perché sono ovviamente molto semplici le altre che sono prestigio pietà e non è giusto la parola fama perché si confonde con un'altra cosa neanche prestigio familiare quanto una famiglia è nota diciamo così legacy della famiglia vabbè come quella renon non mi viene la traduzione giusta perché fa ma si confonde con una cosa di cui volevo parlarvi allora si guadagnano semplicemente e si accumulano qui quindi qua ne guadagniamo 6 e 3 e ne abbiamo accumulati 7000 rotti e si spendono facendo cose per esempio se devo dichiarare guerra a 1 per un mio claim la guerra costa un tot di prestigio e fin qua è tutto semplicissimo dov'è che le cose diventano un pochino più complicate se lasciate sul mouse c'è il livello di fama il livello di devozione e il livello di splendore qua vedete perché non voglio usare per renone la parola fama perché il livello di fama è scritto qua quindi uno può confondersi cosa sono questi tre livelli? praticamente sono l'accumulo durante nel caso di questi due la vita del personaggio invece questo qua è tutta la partita di fatto quindi la vita della dinastia tutta la partita perché se non avete più nessuno della vostra dinastia ti avete perso quindi game over quindi diciamo per tutta la partita comunque l'accumulo di questi punti qua e in che senso Galloz accumula? anche questo qui è un accumulo no? nel senso che questo qua è il saldo tra quello che ho accumulato e quello che ho venduto cioè che ho venduto ho usato e questo è quello che mi è rimasto questo qua invece è solo il guadagno cioè se io ora spendo trovo il modo di spendere 7000 di prestigio poniamo che io ce la faccio non so come questa barra non scende perché questa qua è solo quello che si è guadagnato non quello che si ha adesso anche perché ovviamente come leggete io ora non ho 5000 di prestigio ne ho 7900 perché? perché quando sono salito di livello attualmente siamo a livello Exalted Among Men evidentemente facciamo finta che non ne abbia speso di prestigio per semplificare i calcoli avevo 2900 di prestigio giù di lì adesso ho fatto i calcoli a spanne quindi sono salito di livello questa barra azzurra dove ora ho la manina si è resettata e da quel momento ne ho guadagnati 5109 ora appunto se io li spendo tutti sarò sempre 5109 fra un mese sarò 5116 non è vero 115 perché non si può fare i calcoli perché aggiungerò quei 6.3 questi qui a questa barra qua quindi qua ci sarà scritto 5115 e qua ci sarà scritto 7989 ho deciso di complicarmi la vita a fare i calcoli a quest'ora di notte questo perché? perché mi avete detto che non riuscirò mai arrivare a livello di icona religiosa ma in realtà non manca tanto ragazzi cioè siamo a 370 punti e ne guadagniamo 12 al mese 12 per 12 fa 144 quindi sono 3 anni se non moriamo a 0-3 anni e spero di no diventeremo un'icona religiosa perché voglio diventare un'icona religiosa e finalmente torniamo a parlare della ciccia perché voglio consacrare la cavolo di famiglia perché ci darà un tratto ereditario tra l'altro abbastanza forte e perché comunque guadagniamo Renon che andrà a accumularsi qua nel livello di splendore e quindi è molto forte non so se ci capiterà un altro personaggio forte come Re Alberico cioè questo è davvero una bomba è fortissimo questo personaggio che stiamo utilizzando spero di buildarne di più forti ma per ora accontentiamoci di lui insomma ed è un accontentarci insomma abbastanza comodo sarebbe bello accontentarsi sempre così quindi cerchiamo di fare questa cosa allora poi mi sono segnato di dirvi anche che ho trovato questa bellissima bambina che è a Firenze figlia del nostro vassallo lui e qui eccola qua che è geniale e carina quindi io spero di avere presto un figlio maschio da farle sposare praticamente ho già parlato 14 minuti quindi facciamo una cosa un po' così questo diventa un episodio extra che butterò nella serie a casaccio lasciamo fuori in cui vi ho fatto due tutorial su su proprio fatto a caso però non mi va di fare un episodio in cui per 20 minuti parlo senza togliere la pausa dopo un sacco di giorni in cui non registravo niente in cui vi ho spiegato come funzionano prestigio Pietà Renonna e ho saltato queste due ma sono molto più semplici comunque diciamo di un altro livello cioè non riguardano la mappa di gioco ma riguardano le azioni e poi un po' quelle sono le interazioni da fare con l'ordine religioso e quello che ho intenzione di fare con lui quindi l'episodio finisce qui ma ovviamente non è l'episodio numero 10 della serie che ci sarà a brevissimo ora non so se questo episodio è uscito prima o uscito dopo probabilmente uscirà prima ma ovviamente con un arrivederci a presto perché farò anche l'episodio vero quindi se volete parlare di questi due argomenti sotto i commenti di questo episodio fatelo pure iscrivetevi se volete farlo e lasciate un mi piace se ne avete intenzione e soprattutto se pensate che mi sia spiegato male o addirittura che io abbia detto cose sbagliate fatelo subito sapere così ci correggiamo subito anche perché comunque il gioco è nuovo potrei aver sbagliato o interpretato male la wiki potrei non aver capito niente avervi detto cose sbagliate ma penso di aver capito abbastanza bene come funzionano questi tre e soprattutto questi e per l'ordine religioso ditemi cosa ne pensate perché ovviamente il prossimo probabilmente non sarà l'ordine dei templari vi dico la verità ho anche provato a fare e esce fuori l'ordine dei cavalieri ospidalieri che ha fanteria pesante e cavalleria leggera quindi vediamo però ditemi un po' cosa ne pensate voi e ci vediamo nell'episodio vero 10 questo qua è l'episodio tutorial salato fuori a cacchio di cane a presto GG a tutti